Solo per parlare un secondo dell'informazione falsa, bugiarda, dei giornali, del mainstream, della rete. Il sottoscritto volutamente con tutte le persone che ne fanno parte del partito ha scelto, dopo 13 anni di incarico, di mettersi da segretario generale, sarò presidente onorario e mi impegnerò nella nuova coalizione importantissima di democrazia sovrana e popolare. Detto questo i giornali impazziscono, dal Corriere della Sera a tutti gli altri. Il Corriere della Sera in particolare col titolo, è purato, e poi il sottotitolo, da fidele ai complottisti. Già, perché bisogna risultare reietti e poi bisogna risultare anche matti, complottisti. Il termine complottisti lo hanno messo in giro quelli che i complotti li fanno davvero, quelli che fanno la guerra. Ecco, quelli sono i complottisti veri. Però se tu critichi la guerra, se tu critichi la gestione della cosiddetta pandemia, sei un complottista. Appunto, riflettiamo su queste cose. Pensate cosa possono dire di una vicenda di avvicendamento molto semplice, molto anche irrilevante, direi. Io ci sono e come. Però devono storpiarla questa notizia, devono caratterizzarla. Pensate a cosa dicono della guerra, a cosa dicono delle cosiddette pandemie, a cosa dicono dell'energia, del green, a cosa dicono del politicamente corretto. Sono, come dire, fanno un lavoro davvero importante per i loro padroni, per le grandi multinazionali, per i grandi che governano il mondo. Noi gli mettiamo i bastoni tra le ruote, come dire, e lo facciamo con lo spirito della nostra determinazione, con lo spirito della nostra ragione. Saluti a tutti.